Tg Scuola in Forma, edizione speciale. Arriva la festa più attesa dell'anno, il Natale. Sali amici del Tg Scuola in Forma, stelle, renne, slitte, regali! Eh sì, sta arrivando Natale, ricco di simboli, leggende, storia e tradizioni, e rappresenta sicuramente la festa più importante e risentita. La festa associata alla serenità dello stare in famiglia, ed ha la gioia di dare e ricevere doni. Ma come sarebbe un Natale senza doni? Al giorno d'oggi, i bambini pensano al Natale come la festa degli regali, ma è molto di più. E' la festa in cui le famiglie si uniscono. E' la festa delle emozioni, quella più importante e più gioiosa. Amici, la felicità viene dal cuore! I golosi, in questo periodo, vanno alla grande, sì, al supermercato! E un Natale senza dolci? Impossibile rinunciare al mandorlato, al pandoro, al panettone e al cioccolato. L'importante è non esagerare! Per tradizione, la sera di Natale, le famiglie si riuniscono intorno all'albero per festeggiare. Ma come potrebbe essere un albero di Natale? Naturale o ecologico? Ragazzi, volete aiutare la natura? Siete un albero ecologico. E se lo tratterete con cura, durerà lungo. Guardate questo albero, ha più di 50 anni, ma fa sempre la sua bella figura. Che dire di questi addobbi? Guardate questo, è tutto rovinato. Basta prendere un tessuto, un filo e legarlo. Parola d'ordine, riciclare! Anche a scuola è un periodo speciale. Alla fine di novembre si comincia a preparare le decorazioni per le aule, il biglietto di auguri e volte un regalino da portare a casa. Ecco la ricetta per creare un angioletto in terra cotta. Stendere col mattarello l'impasto. Ripassare il mattarello sopra il centrino. Ritagliare il vestitino e le ali. Unire le ali al vestitino. Modellare una pallina per fare la testa. Decorare e dipingere. Buon lavoro! I nostri inviati hanno fotografato per voi lavoretti natalizi e le varie classi. La fantasia e la creatività non mancano. Vediamo! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring For you and your king We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year E perché è pratico di Mouse Ecco una raccolta di splendidi disegni Vediamo! 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 Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Bring us some figgy pudding Now bring it right here We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your king We wish you a Merry Christmas We wish you a Hail We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year E poi arrivano le vacanze di Natale e alcuni di noi partiranno. Vado in Sri Lanka. Mi dispiace perché non resterò con i miei amici. Buon Natale singalese! Su buon Natale a Cueva! Dalla redazione del TG Scuola e Forma è tutto! Amici, buon Natale e felice anno nuovo! Ciao! Grazie a tutti!